Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video, oggi vi mostrerò la seconda parte della mia libreria. Nel precedente video vi avevo mostrato i primi due scaffali, soffermandomi un po' di più su ogni libro, diciamo. Adesso vi mostrerò gli altri tre scaffali che sono i libri che devo ancora leggere. I primi due sono tutti libri che io ho già letto. Mi ripeto, non sono solo questi, nel senso che io li do via se un libro non mi piace o non voglio tenere, quindi io non ho letto molti di più di questi. È impossibile per me tenerli tutti, ovviamente, o li scambio, o li vendo. Il posto è quello che è. Va bene, veniamo ai tre scaffali inferiori dove ci sono tutti i libri che devo ancora leggere. Non sono proprio tutti perché altri li ho di là in camera, in cameretta, sulla scrivania. Comunque, intanto, io vi mostro questi. Andrò un pochino più veloce perché, ovviamente, altrimenti durerebbe troppo il video e non mi va. Anche perché sono tutti in prima fila, in seconda, vedete, ho un caos pazzesco. Allora, iniziamo subito con quattro mattoni che ho messo qua. Ho L'ombra della montagna di Gregory David Robert, trovato di Rechant all'usato. E devo ancora leggere, vi faccio vedere Shantaram. Leggerò, ovviamente, prima questo e poi proseguirò. Poi ho Di Polosser 4321 e L'ottava vita di Bri per Bricca di Aratiswili. Come si chiama? No, non si pronuncia così. Vabbè. Questa saga familiare, che anche questa non vedo l'ora di leggere. È quasi un anno che l'ho nella mia libreria. Sarebbe anche arrivata allora. Però i libri non scadono, quindi abbiamo tutto il tempo. Poi, qua partono tutti gli Adelphi. Vediamo. Allora, togliamo prima i libri che ho sopra. Così mi agevolo. Allora, qua ho da leggere Sax Risvegli, un autore che io amo. Poi ho Marai, L'eredità di Esther. Le Braci l'ho già letto, che mi è piaciuto molto. I Consolatori di Muriel Spark, La Lettera d'Amore di Shin, Sommario di Decomposizione di Choran, di Kundera o l'Identità. Le Incantatrici di Bollé, no, vabbè, questo. La versione di Barney di Richer. Il Pollice del Violinista di Sam Kien. Carrère, L'Avversario. I Doni della Vita di Nemiroski, di Saxo, anche l'Isola di Senza Colore. Che ci faccio qui di Chatwin, scusate le pronunce. Gli Intrusi di Simenon, di Nemiroski o anche Jezabel. Un Complicato Atto, cade tutto, un macello sarà questo video. Di Miriam Towe, Un Complicato Atto d'Amore, di Finn Villaventosa. Gli Adelfi Grandi, trovati quasi tutti all'usato, come sapete. Dove io, la maggior parte dei libri che compro sono del mercatino dell'usato. O anche qualcosa della libreria, oppure che mi è stato inviato dalle case editrici. Ma la maggior parte sono libri dell'usato. Che io adoro, ringrazio che ci sono, esistono. Poi, di Letty Fox, di Sted, Siamame, Le Vie dei Canti, Il Più Grande Uomo Scimia del Plestocene, Lo Zen e l'arte della manutenzione della bicicletta, Il Filo del Rasoio, La Lingua Salvata di Canetti, Il Libro del Riso e dell'Oblio di Kundera, L'Anello di Re Salomone, Il Diario 1941-1943, questo che non pronuncio, Lo Scherzo, sempre di Kundera, Il Monte Analogo, Incontri con Uomini Straordinari, Musicofiglia di Sax, Le Ceneri di Angela di McCourt, Tao Te Ching, Il Postino Suona Sempre Due Volte, La Variante di Lunenburg, La Camera Azzurra e questi due piccolini Dopo Sogno e Siddhartha. Poi partono i Feltrinelli. L'Amante di Duras, Musica di Yimishima, sempre Mishima, La Scuola della Carne, La Yoshimoto, Le Sorelle d'Onguri e poi inizia la Yende, la mia adorata Yende che ho tanto ancora da leggere di lei, D'Amore d'Ombra, Eva Luna racconta, Il Regno del Drago d'Oro, Oltre l'Inverno. Qui c'è un'infiltrata Melody che non c'entra una cippa, vabbè. L'Isola Sotto il Mare, Zorro, Ines dell'Anima Mia, Il Quaderno dei Maia, La Città delle Beste, Il Gioco di Ripper, Lungo Petalo di Mare, La Somma dei Giorni, Il Piano Infinito, Eva Luna, Ritratto in Seppia. Li ho tutti, di lei mi manca solamente uno, La Foresta dei Pigmei che poi recupererò perché è una trilogia. Poi, qui ci sono i saggi, li ho voluti mettere tutti insieme, scusa, il magico potere di ammettere i propri sbagli, le emozioni sono intelligenti, esercizi per allenare il cuore e la mente, le persone sensibili sanno dire di no, le donne che mangiano troppo, quando il cibo serve a compensare i disagi affettivi, guariri con una fiaba, usare l'immaginario per curarsi, io adoro i saggi come vedete, La Via dello Zen, poi diversi romanzi random, Ebano, Psicomagia, Alice e i giorni della droga, Opera struggente di un formidabile genio, di Bukowski, storie di ordinaria follia, La Casa del Sonno e il Sale della Terra. Una donna dell'Ale Ramo e non dirmi che ha paura di Catozzella. Poi qua ho Jack London Martin Eden, al di qua del Paradiso di Francis Scott Fitzgerald, il Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago. Le assaggiatrici della Postorino, Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, Sossiane Pereira di Tabucchi, Viaggi altri viaggi di Tabucchi. Qua ho tre saggi, no, tre romanzi, saggi che mi sono stati inviati da Ella Feltrinelli, Vince chi impara, Opla, Un saggio, Poi Un canto salverà il mondo e Su tutti i vivi e i morti, Joyce a Roma. Tenere alla notte di Fitzgerald, Il mantello della Serrano, Trans Europa Express di Rumiz, Pennac, Storia di un corpo e di Marone Magari Domani Resto. Poi ho messo tutti i miei super coralli, in Audi La Ferocia di La Gioia, Educazione Siberiana di Linin, Storia Umana della Matematica, Di Rotta Indignazione, Nero e l'Albero dei Ricordi Azzurri all'Aria, Anime alla Deriva, Di Franza e Libertà, La Mandorla, Famiglia di Gisburg, Non lasciarmi di sicuro, Non avevo capito niente, Di De Silva, Di Eddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, Sempre Gisburg e le piccole virtù, Espiazione di Mekiewan, L'amore fatale di Mekiewan, Collasso, E poi qua ho vincoli di Aruf, E sempre di Aruf o Crepuscolo. Poi sempre in Audi, Firmino, Sotto la pelle di Faber, Di Faber ho anche il petalo cremisi, Il bianco, Il confessore di Nesbo, Il fantasma esce di scena, Di Rotta, E di Rotta la macchia umana. Poi qua ho di Adisci, L'Ibiscoviola americana, Metà di un sole giallo. E di Levi, La tregua, Sommersi e salvati, E sequestro un uomo. Passiamo allo scaffale di sotto, Al penultimo scaffale, Di libri ancora da leggere. Allora, Le vergini suicide di Euginidis, E la trama del matrimonio, E Middlesex, Ne ho tutti e tre di lui, Ancora devo leggerli. Poi della Tutti, Figlia della Cenere, Fiore di roccia, E molto forte, Incredibilmente vicino, Di Safran Foer, Alta fedeltà, Di Nick Orby, Ve li mostro un po' così, Anche se... Poi, Valentina d'Urbano, Quella vita che ci manca, Di Gardner, Il mondo di Sofia, Poi, Il centenario, Che saltò dalla finestra, E scomparve, Girl is now, La peste di Camus, Il cavaliere d'inverno, La mont... Scusate, Mi sono messa un po' meglio, La montagna dell'anima, Fanny Flag, Voglia ecrobatici, E pattini a rotelle, L'ultimo che mi è rimasto, Di lei da leggere, Sopra qua, Che cosa abbiamo? Le quattro casalinghe di Tokyo, E diventare se stessi, Poi, La casa per bambini speciali di Miss Peregrine, Pandora, Le furie, Circostanze incendiarie, La vita davanti a sé, Il cottage sull'oceano, Il goldbaum, E qui partono, E qui partono, Altre case editrici, Edizioni EU 3, Lucky di Alice Sebold, Ninfe Nere di Bussi, Poi della Ferrante, Storia del nuovo cognome, Storia della bambina perduta, Storia di chi fugge e di chi resta, E giorni dell'abbandono, E l'amore molesto, Poi ho La casa del riccio, Di Barberi, Una rosa sola, Poi di Starnone o Lazzi, Racconto dell'ancella, Di Atwood, Oliver, Oliver, Kitter, Vabbè, Lady Stuart, La straniera, Di Durastanti, Il colibri, Adesso, C'è il film al cinema, Di Veronesi, E, Gli anni della leggerezza, Di Howard, Di John William Stoner, Nessuno sa di noi della spazia, Paraco, Autrice che mi piace molto, Equazione di un amore, Della rattare o la giusta distanza, Splendi più che poi, Che puoi, E niente è come te, Poi di schevaliere la ragazza con l'orecchino di perla, Di Toni Morrison amatissima, E non ti muovere della mazzantini, Sopra qua, Ho nelle terre estreme, Il dio delle piccole cose, E il gusto provvito dello zenzero, Poi di Ossini e la corrisposta, Ti regalo le stelle di Moyes, E mi scima a neve di primavera, Poi il paese delle prugne verdi, Lungo il sentiero dell'illuminazione, Del Dallalama e Dallalama la mente illuminata, Poi ho di questa collana trovata all'usato, Diversi titoli interessanti, Una donna spezzata di Simone de Beauvoir, L'uomo che guardava passare i treni di Simenon, Il grande Gatsby di Fitzgerald sulla strada, La storia dell'amorante e pastorale americana di Roth, E l'essico familiare della Jaysburg, Partono i classici, Diciamo poi, Buddenbrook, Scusate la pronuncia, Di Thomas Mann, In questa spettacolare edizione, Trovata sempre all'usato, L'isola di Arturo dell'amorante, Memorie di una ragazza per bene, Bellissimo anche questo qua, De Beauvoir, Bellissimo l'edizione diciamo, Opla, Scatafascio tutto, L'arte della gioia di Cogliarda Sapienza, In questa edizione, Che non fanno più stampa alternativa, Poi Anna Carerina, Tolstoi, Però ho solo la prima parte, Vediamo poi se riesco a recuperare la seconda, Non lo so, E il Monte di Monte, Il Conte di Monte Cristo, Poi qua sopra ho incastrato, Moby Dick, Foglie di Brooklyn di Oster, Fahrenheit 451, E a Cico, Le ho messi qua, Ero arrivata, Mi pare qui al Conte di Monte Cristo, Bruciata viva, Poi, Di Suad, Malamore di Consita De Gregorio, Di Warwell, La fattore degli animali, In questa edizione, Che non è che mi entusiasma molto, Però va bene, Di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Di Orwell 1984, Questa edizione anche, Non è che mi sconfinferi tanto, Il Giovane Olden di Salinger, Ora crolla il mondo, Poi ho il ritratto di Dorian Gray, Da una vita, Che ce l'ho e lo devo sempre leggere, La pianista di Auschwitz, Il bambino con il pigiama a righe, Figli di Nessuno, e Madre del riso, Di Dory Lessing, Il sogno più dolce, Tre della Perlin, Il circo delle illusioni, Anima, L'uomo che inseguiva desideri, Una bambina bellissima, sempre di Aidan, Ma è stati così felici della Lombardo, Poi, Mi avvicino, L'arte di ascoltare i battiti del cuore, E poi qua altri libri di crescita personale, Messaggio per un pesciolino che ha sempre sete, Avere o essere di From, Calma la scimmia che ha in testa, Intelligenza emotiva, Il segreto è dentro di te, Il bambino nascosto, Questo di Alba Marcoli, Favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli, Gioia nella vita, Gioia nella morte, Di che da, Che cos'è? Maestro di dialogo, Non lo so, Il libro della grandezza, Poi, Forte come l'acqua, Progetto felicità, Il Buddha nello specchio, Il potere dell'intenzione, Di Dyer, Prendi la vita nelle tue mani, E poi, Intelligenza emotiva, Di Safran Foer, Ogni cosa è illuminata, Di Trevor, Il viaggio di Felisa, Poi di Terzani, Lettere contro la guerra, In Asia, E la fine è il mio inizio, Veramente Lettere contro la guerra, L'avevo iniziato, Ero a metà, Ma poi mi sono bloccata, Perché non ero nel mood giusto, Poi, Non vi lascerò Orfani della Bignardi, Questo che cos'è? Di S, Storia di un vagabondo, Kafka, L'avvoltoio, Il diario perduto, Di Frida Kahlo, Poi, Ho storie di Amsterdam, Resto qui di Balzano, Nella terra dei peschi in fiore, Di Melissa Fu, E il libro tibetano, Del vivere e del morire, Questo è tutto lo scaffale, Il penultimo scaffale, Ora passiamo all'ultimo, Mamma mia, Qui ci sono Thriller, King, Allora, Iniziamo con i King, Non ve li sto a tirare fuori, Altrimenti non, Ne vengo a capo, Colorado Kid, L'ultimo cavaliere, E brevi di d'autore, Poi ho l'istituto, Billy Summers, La casa del buio, La tempesta del secolo, La canzone di Susanne, Che questo fa parte della saga della Torre Nera, Tipo il settimo, L'ottavo volume, Vabbè, Io non lo sapevo quando l'ho preso all'usato, Dolores Claribon, Quar in Atlantide, Cell, Tutto è fatidico, Uscita per l'inferno, Buk e Hit, La storia di Lisley, Insomnia, Rosemary, Il gioco di Geralt, Quattro dopo mezzanotte, The Dome, Il talismano, Qua tutti quelli che ho in copertina rigida, Poi, Allora, Tutte edizioni stravecchie, Il talismano, Le creature del buio, La zona morta, L'ultimo cavaliere, Ecco, Benissimo, L'ultimo cavaliere, Mi accorgo adesso, Che, Già lo avevo, Benissimo, Eccolo qua, Adesso, Quale tengo? Uno dei due, Devo darlo via, Non lo so, Questa è un'edizione nuova, Questa è l'edizione vecchia, Vedremo, Poi vedrò, Ecco, Vedete, Per questo servono anche i bookshelf tour, Per rendersi conto, Anche, Se salta fuori qualche doppione, Qualcosa, Vabbè, Fa nulla, Poi, Pet Sematary, Desperation, La metà oscura, L'incendiaria, Cose preziose, La chiappa sogni, Christine, La macchina infermennale, Revival, L'incubi e deliri, Mucchio d'ossa, Poi qui, Edizioni nuove, Pequic, Blaze, Stagioni diverse, Mr. Mercedes, L'uomo in fuga, Di là però, Ho anche il miglio verde, Elevation, Mi pare, Li devo mettere poi qua, Che li ho trovati di recente all'usato, Poi qui sopra, Ho il gioco dell'angelo, L'ombra del vento, Di Zafon, E questo libricino, Di Emma Laspina, Il suono dei mille silenzi, E qua, Di James, L'altra casa, In questa edizione pazzesca, E poi, Ho la regina dei castelli di carta, Di Stig Larsson, L'ultimo volume che devo leggere della saga, E qua, Ultima mossa di Patterson, Sempre Patterson regista di inganni, Di Kepler, Il porto delle anime, Kepler, L'ipnotista, E ok, Eccoli qua, Emilio Verde, Elevation, E metterò, Li infilerò, Qua da qualche parte, Vabbè, Dopo, Poi qua, Che cos'ho? Ehm, Harry James, Il giro di vite, In questa edizione, Stra, Stra vecchia, Il mondo nero, Di caro figlio, Jonas, Il mondo nero, Di caro figlio, L'amore più grande del mondo, Coraline, Di gay man, E noi, Ragazzi, Dello zoo di berlino, Poi è saltato fuori un altro King, E gli occhi del drago, Comunque, Non me ne mancano molti per completare la collezione, Me ne mancano di King, Però, Insomma, Ne ho già parecchi, Poi, Di Aidan, Una bambina, La mia prediletta, Di Carrisi, Poi, Qui parte Carrisi, La casa senza ricordi, La ragazza nella nebbia, L'ipotesi del male, L'uomo del labirinto, Il suggeritore, Poi Giordano, La solitudine dei numeri primi, I Bukowski, Factotum, Questo è Capote, L'arpa d'erba, Lo avevo iniziato, Poi perché non l'ho proseguito, Lo avevo in borsa, Vedete, Tra una lettura e l'altra me ne sono un po' dimenticata, Vabbè, Lo rimetto a posto, Poi qua, Newton Compton, L'ultimo respiro, La maestra cattiva, Il matrimonio dei segreti, E la ragazza nell'acqua, Poi non è come pensi, Diana, La bambola che dorme di Diver, Qua, Che cos'ho, Loro si ricordano di noi, Il libro dei fatti incredibili, Incredibili ma veri, E i fenomeni del paranormale, La ragazza nel parco, Poi qui, Di lei, Clark, Sapevo tutto di lei, Prendimi il cuore, E l'ultima volta che l'ho vista, Di Charlotte Link, Estate di morte, Di Coben, Griezmann la casa dipinta, La donna alla finestra, Di Finn, Poi il mio cuore cattivo, Di Dorn, E nel bosco di Tana French, Poi, In amore in guerra, Della Dario, Di questa giornalista, La spinta, Di Odrin, E Teddy, E poi la trilogia, Di Lacheberg, Il predicatore, La principessa di ghiaccio, E lo scalpellino, Ora non ricordo il primo, Quale fosse, Poi ho la casa nell'ombra, Di Donna Tart, Di Odillusioni, E il piccolo amico, Poi ho questi libricini qua, Il diamante grosso come Ritz, Di Fitzgerald, Il pellegrinaggio in oriente, Di S, Limonata, Altri racconti di Carver, Destoyevsky, La mansueta, Il sogno di un uomo ridicolo, E racconti orientali, Poi due libri, Che non so se leggerò mai, Sono stati questo regalato, Chi in sella, La ragazza fantasma, E di Sparks, Nei tuoi occhi, Con Brian, Un mercatino, Non ricordo, E mi pare che io, Abbia finito, Metterò poi in ordine, Tutto, Dovrò, Aiutatemi a decidere, Quale tenere, E io, Mi rialzo, E ora, Vi porto di là, A far vedere gli altri, Allora, Io ho lettura questo, La gemella sbagliata, Di Anne Morgan, Mi sto leggendo, Anche il grande libro, Di Stephen King, Bellissimo, Questo libro, Poi ho, Finché aprirai, Quel libro, Qui ho gli ultimi arrivi, Diciamo, Le cose che vorrei leggere, Perfect Day, Violeta, The Lion, Ossessione di King, Al giardino ancora non l'ho detto, Di Pia Pera, Le ore, Di Cunningham, Di Gisbur, La strada che va in città, L'arte di correre di Murakami, La misura del tempo di caro figlio, Animalia, Infinito Mullit, Di Sara Gamberini, Se vado via di lì, Virginia Bramati, Le ragazze di Verate, Me li tengo qua sulla scrivania, Vediamo che salta fuori, Ho terminato, Il rosmarino non capisce l'inverno, Poi lassù ho dei classici, Dei libri per ragazzi, Qua i libri di Bambarena, Osho, I quindici, Chi è che se li ricorda, Qua questo bellissimo tesoro, E libri per ragazzi, Calvino, Favole al telefono, Eccetera, Qua questi bellissimi, Questa bellissima collezione, Dei miei piccoli eroi, E qua altri libri illustrati, Libri per bambini, E così via. Questo è tutto, Io vi saluto con una panoramica, Della mia libreria disordinatissima, Incasinata, Adesso, E spero che il video vi sia piaciuto, Fatemi sapere, Insomma, Cosa ne pensate, Ovviamente, Non sono tutti libri, Questi che ho letto, Ve l'ho già detto, Perché io comunque, Li faccio girare, Li scambio, Li porto all'usato, Me li rivendo, Però capisco che ne ho tantissimi, Ancora da leggere, Tanti, 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 Ma io sono felice così, Un bacione, Ciao, Al prossimo video,